La parte, diciamo, è confinante con il Lazio, abbiamo raccolto dei cani del Vagro Cabeno dalle nostre condadine a metà degli anni 70, quindi dal 74 al 76 e stasera vi ne proponiamo un buon cuore. Benissimo, cominciamo allora, siete pronti? Non ancora, non ancora, ancora un attimo per amplificare la fisarmonica. Siamo pronti? Che cosa ci fate sentire? C'è un titolo? Cominciamo con un brano musicale che è una tarantella, quindi potete ballare tranquillamente e vede un poco questi strumenti che si alternano a cominciare dalla ciaramella al faudo alla fisarmonica e infine anche alla zampugna che entra nella parte, diciamo, molto importante di questo brano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.